Foggia questa mattina ha ricordato la tragedia di Via delle Frasche del 21 novembre del 2004 in cui un'esplosione causò il crollo di alcune palazzine causando la morte di otto persone e il ferimento di altre sei. Tra le vittime anche due bambine e dopo dal 2004 ad oggi ancora due famiglie non hanno un'abitazione di proprietà e vivono in situazione di emergenza. Allora ascoltiamo le loro lamentele ai microfoni di TG Blue. Raffaele Longo, il 21 novembre del 2004 lei abitava qui, ha perso la casa. Adesso? Adesso sono appoggiato tramite un accordo fatto all'epoca con il sindaco Moncelli, se non ero Gianni Moncelli, a riguardo una trattativa perché sto aspettando ancora i miei diritti dignitosamente, sia come causa che come cittadino. Ad oggi piccoli incontri a susseguirsi con altri sindaci al di fuori di Gianni Moncelli, tutte promesse incantate nell'aria. Dal 2004 lei ancora non ha una sua casa? Casa di mia proprietà? No. Appoggiato un accordo così comunale con l'Istituto Case Popolari, un contratto di due anni che hanno provveduto loro, diciamo giusto nel minimo, e poi successivamente io pago regolarmente in base a un reddito, avendo proprietà di casa. Pago in base al reddito e stiamo aspettando ancora degli eventi, ma non solo per me, anche altri che sono qui proprietari che nel momento dell'evento ci stavano, stiamo aspettando ancora i nostri diritti di cittadino e dignità umana. Grazie.